Gli inquirenti stanno lavorando su diversi fronti per fare luce sull'omicidio che si è consumato sulle colline di Lugagnano a Taviano. Da alcune indiscrezioni sembra che il cadavere ritrovato a terra intorno alle 20 di ieri sera appartenga a un marocchino di 30 anni residente a Vigevano. Il condizionale però è d'obbligo, in quanto i sospetti degli investigatori dovranno trovare riscontro dall'esame delle impronte che verrà effettuato nei prossimi giorni nel corso dell'autopsia, disposta dal sostituto procuratore Matteo Centini. Del caso si stanno occupando i carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola e del Nucleo Investigativo di Piacenza. Sembra che l'assassinio sia maturato in ambienti legati al mondo dello spaccio di sostanze stupefacenti. L'area dove è stato rinvenuto il cadavere infatti è nota per il ritrovo di spacciatori e acquirenti. L'uomo al momento del ritrovamento non aveva con sé i documenti. È stata una pattuglia della polizia locale e dell'Unione Valnure-Valchero impegnata in un intervento in zona a scoprire il corpo senza vita lasciato sul ciglio della strada. La vittima sarebbe stata uccisa con un colpo di arma da fuoco. Gli investigatori stanno cercando di capire se l'uomo sia stato ucciso nel luogo dove è stato recuperato o se l'omicidio si sia consumato da un'altra parte.